Raffica di emozioni al rally Coppa Valtellina, a salire sul gradino più alto del podio all'istituto a sogno in piazza dei Bertacchi, il pilota talamonese Fabrizio Guerra e il navigatore Ruggero Salinetti. I favoriti della vigilia Luca Rossetti e Mirko Franzi penalizzati dall'errore commesso sulla seconda speciale da Bosaggia hanno poi vinto tutte le altre speciali. Sì è stato un rally duro perché inizialmente con Luca non c'era storia perché lui facendo questo lavoro da anni il divario era tanto. Poi con la toccata che ha avuto sulla seconda prova al Bosaggia diciamo che era un po' un po' tutto in discesa. Però Marco è stato sempre alle calcagne quindi è stato un bel duello fino alla fine. L'altro grande favorito Marco Gianesini navigato da Sabrina Fai ha commesso due errori nella PS7 nel finale di gara. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto la nostra strada sempre convinti, sempre credendoci, sempre con la testa, sempre con la cognizione. Abbiamo sentito il fiato sul collo, ahimè è andata male a lui che se non sbaglio l'ultima prova ha picchiato, mi dispiace tantissimo e è andata bene a noi. Secondo posto è che ha andato Loris Gelfi e Gianluca Marchioni su Skoda Fabio R5. È stato un errori impegnativo, comunque qualche errorino, un errorino ieri sulla prova di Mello, una prima prova con qualche problema tecnico alla vettura e abbiamo resettato e oggi abbiamo cercato di arrivare in fondo. È stato un errori molto selettivo, lo si vede anche dalla quantità di toccate. Terzi in generale, Edoardo Dodo Spagnolati ed Erika Zoanni. Sì, diciamo che non ce lo aspettavamo, nel senso avrei firmato prima di partire, essendo la prima gara che facevamo con questa macchina mai più ce lo saremmo aspettati. L'abbiamo portato a casa un po' sulle disgrazie altrui, però purtroppo le gare sono anche queste, quindi noi ci godiamo il terzo posto. Nelle due ruote motrici, affermazione per Nicolas Cianfanelli e Morgan Polognoli. La donna più veloce, Sara Micheletti. A suo fianco il maidomo Romano Belfiore. L'amigata da Romano Belfiore, un ormai veterano nel mondo dei rally e devo dire che anche grazie a lui ogni gara ci sono sempre dei miglioramenti. Dal punto di vista di velocità, tempi, feeling con la vettura, soluzioni improvate anche in vista dei prossimi appuntamenti del campionato italiano, siamo molto soddisfatti. Abbiamo raccolto indicazioni importanti. Purtroppo ieri sul primo passaggio di Albosaggia ho fatto un errore, mi sono fatto sorprendere in una curva, tra l'altro che avevamo fatto cinque volte la mattina lo shakedown. Abbiamo perso 16 minuti.